Se mi bapato Non va bene Bella a tutti ragazzi Qui Golis Ben ritrovati sul canale di The Maniac Signori oggi siamo qui sempre su Call of Duty Black Ops 3 E siamo con Saditz Bella Allora oggi siamo qui per iniziare Una nuova serie Che chiameremo le Black Ops Challenge E in poche parole Consisterà nel Avere la stessa classe Magari ora in questo caso Noi useremo questa classe qui Con la sola pistola L'RK5 senza perk Senza sordenti, granate Quindi senza letale tattiche Senza principali e senza niente Avremo solo questa secondaria Molto molto semplice E dovremo cercare di arrivare Primi in classifica Quindi arrivare io prima Almeno vincere in teoria Diciamo Esattamente Almeno vincere in death match a squadre O io primo e lui secondo O lui secondo O io primo No O lui primo e io secondo Quindi Shish Shish the word Basta solo entrare nella classifica In generale Perché se no No dai Vabbè L'RK5 è forte Diciamo Abbiamo scelto L'RK5 Non l'altra Che non mi ricordo il nome Che è tipo LMR6 Perché La Stiamo usando La classe Senza Niente Quindi ci vediamo Direttamente In game Che ragazzi Ci siamo Personale Madonna Senza usare lo specialista Mi raccomando Va benissimo Ah comunque sono Gli RP doppi Eh sì Questa è il Settimana E la settimana Degli RP doppi Quindi Ma perché corre malissimo Nel giocatore Con Alistocco C'è un problema Ah Era molto Ma molto brutto Esattamente Dove Oh mio dio Oh mio dio No Ma Non è 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 Ce ne sono Tre Questa per me È anche La prima Del giorno Quindi Non far capire Il mio Disaggio Ho fatto Un assist Ma va A cagare Ma come Anche Questa Una Doppia 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 Sono primo Oh Kill Secondo No Scappa Quanti Quanti Malacco Sono secondo Non vedo Non vedi che cos'è Questa roba Allora Dicevo Dove un'altra Ticola Ma è un po' Dentistima San solo Il gioco Solo Con questo Vabbè Meglio Così Mi raccomando Se finiamo Le munizioni Non andiamo Le a prendere Cioè Abbiamo Ri per forza Almeno che Non hai sciacallo Ah che bello Sono morto Di nuovo No Quattro Quattro Io inizio a prendere Pugnila Attenzione Tua fine Amico Inarrico Capra Vabbè Minuto Doppio Al momento Stiamo vincendo La sfida Però io sono Storto Non so Mirare Ah ma vale Anche se perdiamo Siamo primi Nella nostra Forza Vabbè Dico Al momento Vinciamo La sfida Eh da tutte le parti Che dite Io ho paura di Sire Molta Oddio Bombe a casa Siamo avanti Bravo Sì 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 Attento Attento Bello 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 Eccone uno Quando non vedo Nessuno Ma fa paura Bello Ma no che kill Stavo facendo No sono morto Ce lo sai Se c'ho la bocca aperta Perché mi sto Concentrando Ma spottetemi Ma che c'era Vesta Sì Ah è bello Ma do Ma do L'uscita No Finiti molti No raga Il degrado Eh scileno Sono morto Che che i pechi Ho detto Il degrado Il degrado Avrei anche La sua perria Mi raccomando No la mia Spazio No la mia Spazio Ho fatto Ce ne sono tre La dentro Eh sono Molto Che salito Di te Non vedeva Raga Comunque Questi Devo dire La verità Sono Scarsi Eh Molto Molto Scarsi Eh Andiamo Siamo Per 24 44 Sì Vabbè Però Sì No No Sì Fatto è che da lontano La pistola Non ha F Uddio Uddio Scappa Scappa Non farvi vedere più Amico in arricchia Allora Senti Io sto dominando Senti Sto dominando Non c'è Cosa Con la pistolina Da oggi No Sono morto Guarda un poco Che il primo Morto L'ho ammazzato 8 No Spero che crashi La sessione Ora Cos'è Arrivo Primo No Sono Terzo Devo Devo Salire 12 Ma Perché Lui E' Prima Perché C'è Stesso Numero Di Kill Scappa 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 Farvi Vedere Bravi Perché Questo Non lo Uccide Ma Che Problema Mento Diciamo No Di Diciti Eh Raga Dallontano Quest'arma Fa Cagare Letteralmente Fa Cagare Letteralmente Spacchillando Come se Non ci posso Tendo la mano Madonna Con il calcio Dell'arma Dai sono Secondo Dai Oh Oddio Mi sono Scappa 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 Ma Andate Perché Voglio Io In mezz'anno Siamo Tutti E Tri Va Bene Comunque Era Abbastanza Interessante Sto Sfida Anche Perché Non Doppia Doppia Raga Rk5 Master Sono Prima Oddio No Scappa 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 No 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 Voi Si Devasse Oddio che Chi l'ho Fatto Siete morti Sfida L'abbiamo Fata Perché Non Ci Siene Confermata Già Riva 75 Ma Beh Però Siamo Arrivate I primi Due Quindi La Sfida E Fatta Però Abbiamo Perso La Partita Come Cerchiamo Non Cerchiamo La Sfida L'abbiamo Fatta Quindi Noi Ci Salutiamo Qui Spero Che Questo Video Vi Sia Piaciuto Lasciate Un like Iscrivetevi Al canale Di Domene Iscrivetevi Al canale Di Sadiz Che Trovate Ovviamente In Descrizione Un commentino Sulla Serie Per Farci Sapere Se Vi Piace Se Da Devo Portare Avanti Mi Noi Ci Rivediamo Domani Con Un altro Video Sempre Su Call of Duty Black Ops 3 Ragazzi Vi consiglio Di giocare Perché Ci sono I doppi Punti Quindi Da Colis È Tutto Qui The Maniac Enjoy